Grande partecipazione anche da fuori regione a Castelcastagna per l'inaugurazione della casa di Babbo Natale, che fino al 6 gennaio torna a stabilirsi nel piazzale antistante alla millenaria abbazia di Santa Maria di Ronzano, in un luogo assolutamente suggestivo. Un evento giunto la sua quarta edizione negli anni cresciuto in maniera esponenziale per numero di visitatori, un anno importante, questo perché a Babbo Natale è stata anche conferita la cittadinanza onorale di Castelcastagna, con tanto di pergamene e chiavi della città e una statua di oltre due metri che lo raffigura. Siamo contentissimi perché c'è tantissima gente, tantissimi bambini, siamo veramente soddisfatti, è un evento che oramai, un appuntamento che ci chiedono e quindi noi assolutamente siamo contenti di ogni anno di essere qui e di accogliere Babbo Natale. Ogni anno la casa si amplia, quest'anno Babbo Natale avrà anche il bagno, per cui la casa si dota di tutti i comfort, cucina, bagno, camera da letto. Ci sarà un punto dove i bambini potranno prendere il certificato di bambino buono, quindi la casa è cresciuta anche da un punto di vista delle iniziative. C'è inoltre una baita, una baita dove verranno consegnati dei dolcetti ai bambini e quindi la casa si è arricchita. Sono veramente onorato di avere la cittadinanza di questo meraviglioso paese e quindi poter dire finalmente che divento castagnolo, che Babbo Natale a tutti gli effetti sarà castagnolo. Un messaggio sicuramente di pace e di sederità e di fare i buoni e di rispettare i loro genitori, perché per loro Babbo Natale avrà sempre un pensiero e un regalo d'eccezione. Ovviamente non devono dimenticare la letterina. Ovviamente io sono qui pronto con il mio timbro a vidimare le letterine dei bambini buoni che avranno tante caramelle in compenso.